Per le prossime elezioni politiche Noi con l'Italia sarà presente anche in Abruzzo con una propria lista all'interno della coalizione di centrodestra. A Francavilla la presentazione di questo progetto politico, onorevole Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. Sì, siamo qui perché alle prossime elezioni politiche Noi con l'Italia sarà presente nelle liste del centrodestra. Si candida a governare l'Italia dopo le elezioni del 25 settembre. Sarà presente con una propria lista ma proprio per dare la possibilità agli elettori del centrodestra di scegliere di votare i moderati del centrodestra. Coloro che vogliono riportare nella proposta politica del centrodestra quelle caratteristiche che sono sempre state la forza del centrodestra. La moralità del fare perché la politica è innanzitutto dare risposte concrete ai bisogni che si incontrano. La concretezza, la responsabilità, la serietà, la capacità di dire no quando bisogna dire di no e la capacità invece di dire che la politica dei no, cioè del non realizziamo mai niente perché nel mio giardino, nel mio comune questo non si può realizzare. E penso all'infrastruttura e quelle materiali e quelle immateriali non va contro il bene e l'interesse comune. Insomma, quell'idea di politica che ritorna ad essere e a mettere al servizio le proprie competenze, la propria passione ideale al servizio della propria comunità. Ecco lei ha detto a queste politiche si vincerà solo se si metteranno al centro quelle che sono le priorità del Paese. Beh sì, continuano a chiederci chiunque incontriamo ma qual è il progetto dell'Italia per il 2027, su dove ricostruiremo un grande Paese come il nostro. Per noi il primo pilastro assoluto è l'educazione, la formazione, la scuola, la cultura. L'Italia è diventata grande perché ha investito su quella che è la sua materia prima e ci siamo accorti quanto è importante la scuola proprio perché in questi anni abbiamo visto che la scuola chiudeva e abbiamo visto i danni che la chiusura della scuola ha fatto su un'intera generazione, ha aumentato i divari sociali, ha impoverito il tessuto culturale ed educativo del Paese. Per questo bisogna tornare a metterla come priorità, aver messo, grazie anche al contributo di noi con l'Italia, nel PNRR il 18% dei fondi sull'istruzione e sull'educazione dice un segnale, ma non basta. I nostri docenti sono quelli meno pagati d'Europa, le infrastrutture, il lavoro, il cittadino che è protagonista e che lo Stato è al servizio del cittadino e non viceversa, la pressione fiscale che deve aiutare a liberare risorse e quindi deve diminuire. Insomma è un programma che concretamente capisce che la ricostruzione dell'Italia avviene investendo sulla vera materia prima dell'Italia che sono gli italiani. In una delle sue dichiarazioni lei ha parlato del metodo Draghi, cosa intende? Vedo che tutti in questo periodo i partiti, almeno quelli del centro-sinistra, sono ad impossessarsi dell'agenda Draghi. Io credo che sia un'idiozia da un punto di vista politico perché l'agenda Draghi è quell'agenda di compromesso che ha visto in questi 18 mesi governare dal Partito Democratico a Forza Italia, da noi con l'Italia al Movimento 5 Stelle, cioè partiti diversi facendo un passo indietro in nome del bene comune. Io non sosterrò mai per cultura, non per posizione presa, il reddito di cittadinanza come strumento per trovare e ridare dignità al lavoro. E allora dire che io sposo l'agenda Draghi è come dire che non ho un'identità, non ho una proposta politica, non credo alla mia storia. Noi diciamo che la lezione di Draghi è la lezione di un metodo e qual è questo metodo? Riportare una politica alla sua essenza, alla serietà, alla competenza, alla concretezza, alla certezza dei tempi, all'interesse del paese. L'Italia è in Europa ed è nell'Occidente e quindi la forza di un'Italia che torna ad essere protagonista nel mondo è la forza che poi si dà agli italiani. Per concludere, lei è attaccato all'Abruzzo ed è normale che lo sia. Una sua valutazione anche sul governo regionale abruzzese? I miei genitori nel 1953 migravano da Fossacesi e venivano a Milano. Comunque è un legame a questa terra sia attraverso l'educazione che i miei genitori mi ha dato e poi appunto la conoscenza di questo territorio, ci sono i miei parenti, molto forte. Io credo che la cultura abruzzese, la forza dell'identità dell'Abruzzo possano essere veramente un patrimonio che serva a tutti, l'idea anche dell'ostinazione, l'idea del volere ad ogni costo cercare di non subire ma di raggiungere il risultato, l'idea dell'orgoglio delle proprie tradizioni e della propria cultura, l'idea di avere delle eccellenze in questa regione che non vogliono assistenzialismo. L'Abruzzo si colloca al centro dell'Italia, a me non piace mai quando viene detto la cerniera, perché la cerniera è un brutto termine, il centro vuol dire che raccoglie nel cuore dell'Italia tutto ciò che è la caratteristica del nord e del sud di questo paese e io credo che sia doveroso per chi fa politica a livello regionale, comunale, ma a livello nazionale capire come questa regione, come tutte le altre regioni, ma possa e debba essere valorizzata. Un grande politico, che io ho avuto la fortuna di conoscere da ragazzino, Remo Gasperi, fece di tutto per dare infrastrutture a questo paese, sognando verso un futuro che allora era inimmaginabile, ma si è visto come la realizzazione delle infrastrutture hanno portato poi ricchezza. Oggi con il presidente Marsiglio stiamo lavorando perché l'Abruzzo torni ad essere quella grande regione, ma per farlo dobbiamo farlo tutti insieme. La conferenza stampa si è svolta a Francavilla al Mare, presso il Fiotel Alcione. Ma in Abruzzo a livello territoriale come vi state organizzando? Paolo Tancredi. Noi intanto siamo partiti da poco in Abruzzo, ma abbiamo già raccolto le adesioni di amici importanti, autorevoli, politici, ex politici e anche della cosiddetta società civile. L'ambizione di questa offerta politica e di questo progetto è quella di rappresentare all'interno della coalizione centrodestra, della coalizione conservatore, dello schieramento conservatore, un'area moderata, liberale, che si rifaccia ai valori cristiani e dell'impegno cattolico in politica. Questo pensiamo che possa essere un messaggio che particolarmente in Abruzzo può passare, per la sua storia e per la sua tradizione, può passare con grande facilità. Infatti, diciamo, nonostante questa accelerazione che naturalmente ci ha costretti a rivedere tutti i piani e i calendari, però stiamo ricevendo diverse adesioni e stiamo mettendo insieme un gruppo di amici che ci stanno dando mano a mano la disponibilità alla candidatura. Abbiamo il nostro coordinatore provinciale della provincia dell'Aquila, Alfredo Masci Grande, che è stato il più votato ad Avezzano nelle passate elezioni comunali, che sarà sicuramente tra i candidati la dottoressa Pollice di Chieti. Poi ci sono tanti amici che hanno aderito al progetto, l'ex assessore terramano Rudy Di Stefano, che è sempre stato tra l'altro uno dei più votati a Teramo, l'amico Enzo Ginevra. Quindi, insomma, ci sono tanti nomi con cui stiamo ancora parlando e che non posso in questo momento anticipare, perché sarebbe scorretto per persone che non hanno ancora fatto il passo di aderire a questo movimento politico. però diciamo che ci presenteremo con una buona compagine sul proporzionale. E se ci dovesse toccare uno dei seggi uninominali avremo sicuramente una figura donna o uomo che sapranno rappresentarlo.